Ciao a tutti ragazzi del LionPro Power, io sono Kure e oggi sono nel terzo episodio di Minecraft della LionCraft ragazzi Partiamo subito a bomba perché siamo in una caverna, siamo in una caverna Sono morto, avevo un po' di... Ma come cazzo dice? Aspetta ragazzi allora Io pensavo prima di raccogliere un po' di pietra e di andare al mio caso di rifarmi un attimo gli attrezzi in pietra appunto E poi di ritornare in caverna un attimo Quindi faccio un mega taglio di quelli fantastici, epici e senza discuterne ci vediamo tra poco Ok ragazzi siamo tornati, abbiamo craftato i nostri paio di attrezzi Però adesso dobbiamo ritornare in caverna, quindi con il mio battito di mani magiche torneremo subito in caverna Cazzata ragazzi ho sbagliato le spawn No scherzo sta diventando notte e ho deciso di aspettare la nottata a casa perché non voglio stare fuori a fare after Quindi vedete che sta diventando notte e poi intorno dopo torneremo in caverna ragazzi Che quella caverna me la giuro mi ispira Troveremo un bordello di roba insomma no Allora intanto mettiamo qua c'è questo pollo Quindi prendiamo questo carbone, 9 pezzi di carbone Pollo, no questo è piccola che mi serve E il carbone, bam E direi di dormire, buonanotte Buongiorno a tutti ragazzi sono Ure e oggi siamo tornati in begli e svegli per tornare in caverna ragazzi Per tornare in caverna, per tornare in caverna Posiamo questo, questo, questo Il pietrisco ce lo portiamo Il legno pure perché non ci so mai se dobbiamo Ok ragazzi Quella caverna mi ispira particolarmente Perché secondo me troviamo un bot di ferro là Già io ho 4 pezzi di ferro trovati appunto qui all'inizio Quindi non ho neanche troppi problemi per dire che mi manca il ferro Il ferro l'ho già trovato Poi si estende anche là davanti Quindi Cazzi Allora già vedo Gli scheletri no Allora io direi prima ragazzi di andare a A esplorare questo pezzo qua di caverna Quindi bam e bam Le torce ce le ho Ne ho 4 La povertà Torniamo in caverna Ragazzi siamo tornati in caverna Siamo tornati in cavernola Allora questa caverna Oh Oh meglio di così non potevamo iniziarsi ragazzi Subito del carbone Subito del carbone Ok Ferro Abbiamo trovato del ferro ragazzi Tanto tanto ferro Minchia che bello Ci partiamo subito avanti così col ferro Bene bene così Bene così Allora io direi anche ragazzi Un attimo di Torniamo un attimo a casa Di posare tutta sta merda E di tornare indietro Così ci craftiamo anche un paio di torce Tanto lì ho visto che c'è altro carbone Quindi buon per noi Allora Ragazzi prima di fare il battitolo di mani Magico con il teletrasporto Mi faccio un resoconto Ho preso 39 pezzi di carbone Ok E non abbiamo neanche incominciato Quindi Promette abbastanza bene Però adesso Ok ragazzi siamo tornati a casa Siamo arrivati bene a Quanto? 8 minuti e 46 di video Non finisce ancora ragazzi Tranquilli che non vi abbandono adesso Mi sarebbero 5 pezzi di legno Ok E un altro 5 Ok Bam 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 E bam Ok abbiamo le nostre torciole 22 torci Perfetto Potrebbero anche bastare Solo che noi ne vogliamo di più Però adesso noi diciamo che anche bastano Quindi io direi ragazzi che Possiamo andare a finire di controllare quel pezzo da su Questo qua tutto Un po' tutto E poi nel prossimo video andare laggiù E cominciare a costruire qualcosa di nuovo per la nostra casa Quindi ragazzi Altro ferro Guardate la quantità di Di carbone E ferro Ferro Tanto ferro Buona cosa Buona cosa Buona cosa Però il carbone ragazzi Vi taglio questo pezzo E ci rivediamo quando finisco di scavare tutto il carbone Per fare il resoconto della giornata Proprio il salario Ok ragazzi siamo tornati Abbiamo circa 22 Abbiamo ripreso altre 22 pezze di carbone Non male veramente Adesso di nuovo con il mio battito di mare Torniamo a casa E poi ci saluteremo Ok ragazzi Siamo tornati a casa Siamo tornati nella nostra casetta Siamo già a livello 3 Abbiamo abbastanza roba Comunque veramente ragazzi Stiamo andando veramente bene in questa serie Nella prossima serie Infatti nel prossimo episodio Nel quarto episodio della Lioncraft Sul PC Che adesso si chiama sempre Lioncraft Però inizieremo gli episodi da capo Quindi Nel prossimo episodio Scusate Nel prossimo episodio Ci saranno Degli aggiornamenti Facciamo No degli aggiornamenti Delle migliorie alla casa E poi volevo andare a vedere Anche quel buco là sotto Quella proprio la voragine Quella così Bene ragazzi Il video finisce qua Spero che il video vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi Arriviamo almeno a 5 mi piace Per questo video Passate la pagina Facebook Instagram E niente Da cura è tutto Bella ragazzi Bella Bella Grazie a tutti.